Buon day, io sono barbuto ma non ho la barba Benvenuti in questo nuovo video Nella serie più seguita, più amata Più, più Ovvero le reaction ai TikTok dei ragazzi e delle ragazze Ovviamente Qui ho mia sorella Ovvero la cavia Tutto lei andrà a reagire ai TikTok compilation agosto 2019 Dei ragazzi, dei 2019 fuckboy Boy boy, fuckboy 2019 E io vedrò la sua reazione Quindi testeremo la mia pazienza Testeremo il suo testosterone Agosto Allora tu devi tenere il telefono perché io devo guardare te e la tua reaction Testosterone Guarda anche cosa guardo Testeremo la mia pazienza Lasciate like se anche voi avete dei capelli Possiamo partire, non perdiamoci in chiacchiere e chiacchierose 3, 1, 2, 1, 3 Agosto Ho paura Eccolo L'hai già visto L'hai già visto Ma cosa va Simpato Questo è un po' Tyler Allora lanciamo questo nuovo trend Noi chiameremo Tyler Ma non perché non ci piace il nome Tyler Ma così Chiameremo Tyler Quelli che sono un po' sciocchi Un po' scemi Cosa fa Ma roba 2019 Io non sto leggendo quindi non sto capendo neanche cosa intendo Eccoli Lasciate like se anche voi avete dei capelli Lui com'è? Lui è un po' Tyler Questo com'è? Felici Felici Carino Vado più per lì poi io Lui sembra l'attore quello lì di 13 Anche Ma anche quello lì di Riverdale Cosa me ne frega di te che parli Cosa vuoi vedere? Dicelo Dicelo Cioè non capisco tanto Dicelo Eccolo Eccolo Si sta per trasformare Però hai cambiato Ci sono rimasto anch'io Non me l'aspettavo Ovviamente fateci sapere nei commenti Steremo la mia pazienza Fateci sapere nei commenti Se volete anche la reaction io alle ragazze con mia sorella che mi guarda Io non ti vedo I miei occhiali Questo cosa vuole fare col cane? Cosa vuole fare col cane? È un cane Si Si è un cane Questi No di 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 Martina te ne piacciono un po' troppi questa compilation L'altro lato non ti piaceva a nessuna Non ti piaceva a nessuna altra volta Saremo la mia pazienza Cosa mi riesci a tenere gli occhi aperti? È un po' fatto mi sa È un po' Tyler pure questo è un po' tagliato questa è una figlia ma sarà la sorellina mi sa tanto che la sorellina ma non capisco se è solo lui o sono tutti uguali si assomigliano tutti con questi capelli ricciolini ma quanto lunga l'inguale non l'ho visto questo cosa fa cosa fa non me ne ero accorta se non me lo dicevi cosa cazzo ho appena visto cosa cazzo ho appena visto non era vero quel coso dai non ci sono dai perché non ci sono gli boy non fa muovere così è un pro lui è stato tutto il giorno tutto il giorno si si di ciò che pensi noi siamo curiosi di sapere cosa pensi soprattutto io sono bravi a ballare ah sono bravi a ballare si si lo sai fare anche tu dai basta che ti stringi un po' qua grazie Martina come sei gentile con me lui è un po' Tyler lui no secondo me non ti piace ti devo vedere no ok non ti dice niente lui lui mi piacciono quelli con i capelli lunghi se volete conquistarmi a sorella tagliatevi i capelli solitamente i ricci mi hanno sempre ti hanno sempre colpito colpito di ma devi dire quello che pensi noi siamo curiosi io vorrei capire ti piace il giocatore di football si lui ti piaceva mi raccomando ragazzi felpe pettacolo in descrizione ah pure ok come cosa pure ricco pure ricco ti piacciono anche quelli ricchi no perché bello e ricco eh l'affincio è un genere che non esiste più ricco e bello sono difficile a trovare e Leo Samano sempre lui un po' fungo no un po' tiger un po' tiger ah 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 si ah 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 lui messo bene messo bene ah ah finito ah ah quanto mi dispiace quanto mi dispiace che sia finito eh di no di non ho capito niente dai di di non ho capito no dico anche a me Perché finisce lì Allora Adesso entriamo nella mia categoria preferita Cioè i boy Ah non quella categoria Non ho capito Non hai capito Vabbè meglio così Allora Cosa intendi? Niente Allora I quali che mi piacciono sono due Sono state due bellissime Ok io non so i nomi Non li voglio sapere ma Diciamo la categoria che piace a te qual è? I boy I boy I boy 3, 1, 2, 1, 3 Agosto Allora qua io mi metto gli occhiali da sola Così tu non vedi dove guardo Eh non stavo guardando L'importante è dove guardo io No l'importante è dove guardo Ok Vai 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 Questo è quello che piace a te? Sì Io pensavo Cioè capito Io pensavo gli piacessero quelli con il tartarugone No Mi piacciono Loro Gli stecchini sono belli a modo loro E magari non è Non può dire Abbiamo detto insieme Incronibile Ecco Pure mio che belli Che belli che sono Quindi testeremo la mia pazienza Sì guarda io mi sto sciogliendo Ma questi come cazzo sono conciati Oh ma Toro Ma stai zitto Anche lui molto bello Quello sembra che deve fare un'operazione Ma stai zitto? Un'operazione chirurgica Amore mio Tutti amori tuoi Lui è bellissimo È sempre lui eh No Prima mi hai detto Sono castano È il suo amico Perché questi elementi Non sono in Italia Voglio conoscere Io sono bello Ah tu sei mio fratello Ho capito però Qualc'oggettivo è oggettivo Bellissimo Grazie lo so Che brulean È un po' Tyler Dovano chiamarla compilation Tyler Tyler Che schifo Ma quello si è scoppiato un brufolo Non lo so No secondo me Sera tagliata con i fili No no Quello c'era una pallina Che prendeva sangue Ma finisci Non mi piace Sembra un Freddy Per causa quello in mano Fra Tyler si chiama Fra te Tyler Lui non è quello di prima No I capelli solo sono buoni Questo è Tyler Lei è in Italia Tutte e due Fratello Italia Lui è un rapinatore Ammira Ammira A bellezza Eh c'hai capelli intonati con la giacca Ecco questo è il tipico ragazzo da rapire Perché è bellissimo Guarda Che carino Sto impazzendo Io Te lo sei meritato Te lo sei meritato Io innamorata Ti tiro una testata Io innamorata Gli ho fatto il duetto Qua l'ho già rapito Ce l'hanno beccato Perché mi ha rapito lui Lui ha fatto questi tre video Il primo dove mi fa vedere Che è lui che mi ha rapito Te lo fa vedere da te Privato Cioè privato Certamente In secondo dove mi viene a trovare Ma lo becca la polizia Lui corre via E il terzo dove la polizia lo prende Dopo che ha cercato di rapirti Perché mi ha rapita Ah proprio a te Ok E io ovviamente c'è nel senso Dovevo rapirlo io Eh sì Portatemelo in Italia Grazie Ragazzi Chiudiamo questo video Prima che ci siano prove Dell'omicidio di mia sorella Spero che questo video Vi sia piaciuto A me per esempio no A me tantissimo Quindi io lascerò un dislike Al mio video Però voi potete lasciare like Sciate like Solo perché Mi sono innamorata In questo video Vai via Per favore Vai via Lasciate like se volete La reaction Così mi vendico Ragazzi Io la voglio fare Quindi lasciate like Perché dobbiamo permettere Di registrarla Ok Io la devo registrare Devo reagire alle ragazze Davanti a mia sorella Ok Dai io non sono stata coerente Con me stessa Però mi sono innamorata Solo di uno Anche io sarò coerente Con me stesso Perché io mi innamoro Di tutte Cosa devo dire Lasciate like Mi raccomando Ci vediamo al prossimo video Ciao